Eh niente, la partita è stata quella, l'abbiamo ripresa, purtroppo siamo stati condannati anche con rigore, era una partita secondo me vista dal campo, ancora non sono riuscito a riguardarla tutta, vista dal campo comunque sembrava una partita in equilibrio che poteva sbloccarsi sull'episodio e come sta succedendo spesso ultimamente siamo stati un po' anche sfortunati e puniti dal rigore. L'abbiamo ripresa e l'avete terminata così, ci siamo presi il punto, ora saranno tutte battaglie, d'ora in avanti dobbiamo compattarci il più possibile, cercare comunque di guardare il meno possibile la classifica pensando alla nostra partita e a fare il bottino pieno tutte le volte. Prima eri finito un po' in disparte, un po' in panchina negli ultimi mesi, e adesso sei tornato in campo nel ruolo di seconda punta, diciamo così, come ti stai trovando, come stai vivendo questa nuova vita? No, niente, come ho detto già le parite scorse, sto apprezzando la fiducia del mister, ma in questo momento comunque conta poco chi gioca, il ruolo in cui si gioca, c'è da animare tutti verso la stessa direzione, siamo tutti sulla stessa barca, dobbiamo pensare al bene del Bari e fare il massimo che riusciamo a fare. Come si esce da questo momento? Perché adesso arrivano sfide davvero importanti, la prima venerdì contro la Cremonese. Come si esce? Saperlo. No, a parte di scherzo, comunque sì, viene venerdì la Cremonese, che è una corazzata del campionato, ma noi comunque sappiamo quello che dobbiamo fare e sicuramente daremo l'anima sul campo. No, a parte di scherzo, comunque è un po' di scherzo, No, a parte di scherzo, comunque è un po' di scherzo, comunque è un po' di scherzo,